la passata lezione avevamo provato ad usare un client ftp per caricare il nostro sito la nostra ricerca su internet in ambiente makintosh naturalmente esistono tantissimi client ftp in ambiente linux o in ambiente windows oggi volevo proporre un plugin che si installa diciamo su firefox e può servire appunto come client ftp possiamo cercare direttamente da google si chiama fire ftp ecco io vado a cercare direttamente qua fire ftp download ecco qui posso andare a cercare firefox scusato sbagliato fire ftp download ecco posso andare qui ad esempio sul sito in italiano per capire un po meglio ecco vedete qui direttamente io posso andare a scaricarlo e aggiungerlo a firefox una volta che io l'ho installato lo vedrò direttamente negli strumenti fire ftp ecco io qui mi viene attivato una piccola finestrella in cui io vado poi a configurare il nuovo diciamo account ad esempio qui andrò a mettere i dati che mi servono per caricare su alice la mia ricerca fire ftp scusate ftp.webalice.it che avevo visto il login e la password in pratica quando io posso andare a voglio andare ad accedere ecco vedete qui ftp login e la password adesso andiamo ad accedere ad alice connect ecco io vedrò come avevamo già visto l'altra volta per cyberduck anche qui vedrò in locale le mie la mia ricerca che la mia in questo caso ho voluto fare in qualche modo per disporre due siti quindi due cartelle ognuna di queste a il file index a livello più alto ok e quindi meglio dall'altra parte sul server le mie corrispondenti cartelle io una volta che io devo andare a modificare di file lo sostituirlo eccetera che faccio che andare a usare queste freccia la freccia questa freccia qua di trasferimento l'upload quindi trasferimento dal mio computer al server facendo in modo che siano rispettate naturalmente le posizioni esatte delle cartelle e dei file in questo caso potrò direttamente da firefox andare a aggiornare il mio sito ogni volta che io vado a modificare qualche pagina o quello che devo modificare ecco grazie a tutti